Questo è uno di quei video in cui finite per odiarmi perché vi faccio diventare poveri, vi faccio condividere la mia povertà anzi perché l'ho acquistato anch'io questo coso, questo gioiello. Allora io credo di aver trovato, credo di aver trovato, il mazzo di tarocchi più bello della storia e lo so che il bello è una categoria soggettiva, infatti sì, non è assolutamente il mazzo più leggibile della storia, anzi questo mazzo non si può leggere, per cui se state cercando un primo mazzo di tarocchi non prendete questo, guardate questo video, vi orienterò un po' meglio. Se è la prima volta che è capitato in un mio video di tarocchi sappiate che io ho un approccio ai tarocchi da introspezione barra storytelling più che da divinazione, ma se date un'occhiata a questa playlist troverete informazioni maggiori anche sul mio approccio. Non dimenticatevi di seguirmi su Instagram e iscrivetevi a questo canale se vi interessano gli argomenti che tratto. Dicevo, mi sa che ho trovato il mazzo di tarocchi più bello della vita, tipo? Lo trovate come sempre qua sotto nell'info box e vi ricordo sempre che se acquistate articoli dai link che trovate qui sotto contribuite anche al progetto di questo canale perché sono tutti quando posso link con il programma di affiliazione di Amazon. Ma siccome a questo punto lo vorrete anche vedere, immagino, eccolo qua, Alchemical Vision Steroid. Guardate come luccica, guardate come luccica, guardate come luccica, basta. Vi faccio vedere mentre parlo un pezzo di video unboxing, vedete, arriva in questa scatola argentata fighissima e ha dietro un cartoncino che si stacca, si leva, non è incollata alla scatola il che può essere un bene o un male per quanto mi riguarda, nel senso che per come sono fatta io finisco per perderlo sicuramente in 3, 2, 1 quindi anche un male, ma d'altronde mi rimane questa fighissima scatola d'argento senza ulteriori orpelli o scritte per cui a gusto può anche essere una figata il fatto che si stacchi. Due informazioni generali, l'artista che ha disegnato e concepito questo mazzo si chiama Arthur Tossig ed è un mazzo assolutamente concepito solo ed esclusivamente per lo studio dei tarocchi e per la meditazione individuale sulle carte. Vi renderete conto da soli guardando le immagini del perché. Aprendo la scatola ci troviamo davanti prima a un libro corposo che io non ho ancora letto questo è un video unboxing e prime impressioni quindi non mi sono ancora addentrata in profondità alla scoperta delle carte e dietro al libro il mazzo vero e proprio. Ecco, mentre sto parlando voi state vedendo le immagini del mazzo e come potete notare non si tratta assolutamente di un mazzo dimensione tarocco standard è un mazzo che è grande più del doppio di una carta di tarocchi di dimensioni regolari le carte di tarocchi sono già piuttosto grandi per darvi un'idea più chiara prima di passare al flip through del mazzo vero e proprio ecco questa vicino alla mia testa è la dimensione delle carte capite bene che non sono carte per leggere i tarocchi ma sono appunto carte per lo studio ora in apertura c'è il matto però in realtà non arrivavano così il matto la carta numero 0 era in fondo al mazzo e si apriva con il mago una scelta che a me devo dire non piace a me il matto piace averlo in apertura ora mentre parlo inizio a farvi scorrere le immagini delle carte vere e proprie e con una rapida occhiata vi rendete subito conto del perché non si possono leggere ma siano carte in cui perdersi sono ultra dettagliate principalmente in bianco e nero fatte come delle incisioni ma con dei dettagli che spiccano molto colorati dettagli che possono in genere essere riferiti io ho fatto caso nel mazzo ai corpi umani e alle decorazioni di frutte floreali che non sono poi decorazioni ma sono i vari simbolismi dei mazzi di tarocchi qui per esempio nel mago riconoscete facilmente l'uroboro il segno di come in alto così in basso la figura umana che spicca mettendo appunto l'uomo e il suo potenziale al centro eccetera la papessa nuovamente c'è una figura umana anatomica in rilievo riconosciamo anche in questo caso i suoi simboli caratteristici la faccia di luna, le melograne, le due colonne ai lati, la la Torah questo è un mazzo chiaramente di ispirazione anzi di concepimento Raider Weismith se andiamo avanti noterete che anche nelle carte successive l'imperatrice, l'imperatore, i simboli tradizionali delle carte coesistono con una ricchezza di rappresentazione che va molto oltre quello che si può cogliere con un colpo d'occhio mentre vanno avanti le immagini del flip through che vi ho preparato vi parlo genericamente di questo mazzo un mazzo d'arte che è uscito nel 2019 e che si ispira non solamente all'iconografia tradizionale del tarocco Raider Weismith ma che prende spunto anche da tutta quella che è la filosofia jungiana vi traduco all'impronta giusto per darvi un'idea mentre scurrono le immagini quella che è l'introduzione del libretto per farvi capire qualcosa di più dell'approccio di questo mazzo che io trovo estremamente interessante anche se sono onesta mi conoscete sapete che l'ho comprato per puri motivi di piacere estetico molti decenni fa ero in visita da un amico psichiatra e stavamo chiacchierando vicino alla mia sedia c'era un cestino con una dozzina di piccole scatole dando un'occhiata più da vicino mi sono accorto che erano mazzi di tarocchi e l'ho presa un po' in giro perché tendeva appunto a mescolare il misticismo con la psichiatria moderna lei mi ha spiegato che non li usava per il loro scopo per le letture ma per il gioco di ruolo e per la terapia psichiatrica un aspetto dei tarocchi che non avevo mai considerato le carte dei tarocchi hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e nella mia mente quando ero all'università avevo letto Il Signore degli Anelli che era di recente pubblicazione e informandomi sulla figura di Tolkien avevo scoperto dell'esistenza degli Inklings un gruppo letterario informale che si era incontrato per decenni nei bar vicino all'università di Oxford il cui scopo era incoraggiare i propri membri, incoraggiarsi a vicenda a scrivere dei fantasy queste conoscenze mi hanno portato a scoprire i lavori di C.S. Lewis e anche se lui è principalmente noto per i romanzi della saga di Narnia a me ha affascinato molto la Space Trilogy l'idea che la fantascienza potesse avere una base religiosa e filosofica mi ha sconvolto ma il vero shock è stato scoprire un altro degli Inklings, cioè Charles Williams i libri di Williams sono ambientati in un mondo contemporaneo però invaso dal meraviglioso e sono affascinanti, ispiranti e spaventosi in Water Heaven per esempio il Santo Graal emerge in una sconosciuta parrocchia di campagna bla 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 ma in ogni caso è stato i Gran Trionfi di Williams il libro di Williams che mi ha agganciato per quanto riguarda i tarocchi in quel libro un mazzo di tarocchi e i pezzi degli scacchi vengono usati per costringere le forze amiche e nemiche a sprigionare dei terribili poteri metafisici mi salto un po' di bla bla ripensando a tutto questo e vedendo quel cestino del mio amico pieno di mazzi di tarocchi ho capito il potere incredibile che si può trovare nei tarocchi il potere delle immagini può aprire ed espandere la mente non deve stupire che il mio amico avesse trovato in loro uno strumento molto utile per la terapia psichiatrica poi qui spiega che è stato proprio il suo amico psichiatra sapendo che appunto che lui era un artista a suggerirgli l'idea di disegnare il proprio mazzo di tarocchi che è naturalmente quello che state vedendo spiega poi vi riassumo che appunto ha studiato per più di un decennio sia la tradizione dei tarocchi di Marsiglia sia quella Ryder Weissmith da cui poi ha attinto ispirazione per il suo mazzo e che infine ha deciso di disegnarlo prendendo come impianto fondante anche le teorie filosofiche di Jung che vede nei processi alchemici una metafora di un percorso di autoconsapevolezza spiega anche in questa introduzione il motivo per cui il matto è in fondo al mazzo non l'aveva ancora letto perché proprio con il principio di infinito dell'Uroboro lui ha voluto metterli in fondo perché alla fine del viaggio ne deve sempre incominciare uno nuovo quindi quello zero ci dà la possibilità di ricominciare a me piaciuti più all'inizio come vi dicevo il libro è piuttosto corposo ogni carta è spiegata nel dettaglio io non l'ho ancora letto però naturalmente oltre a spiegare sinteticamente il significato della carta racconta anche la visione dell'artista come state vedendo dalle immagini anche gli arcani minori sono tutti illustrati prendendo spunto dalla tradizione Rider Weissmitte reinventandola con lo stile particolarissimo di questo mazzo uno stile assolutamente mai visto prima in un mazzo e chiaramente pensato come ci dicevamo per lo studio e per la meditazione tagliando la testa al toro io questo mazzo ve lo consiglio oltre che appunto per il pur piacere artistico non come primo mazzo di tarocchi da leggere ovviamente ma se vi piace come mazzo per imparare a leggere i tarocchi come mazzo di studio per perdersi nei dettagli della mente di un artista naturalmente della reinterpretazione di quell'iconografia però può essere sempre un buon modo per imparare anche a leggere i tarocchi nel senso che viene consigliato se avete difficoltà mnemoniche nel appunto memorizzare i significati di tutte le carte anche degli arcani minori di guardare dei diversi mazzi a lungo di guardare le carte a lungo e prendere appunti su quello che la carta di per sé ci suggerisce al di là di quello che abbiamo studiato quindi raccogliere una serie di informazioni, di emozioni sia in forma scritta che anche semplicemente con noi stessi per entrare un po' di più in confidenza con quello che è il sistema dei tarocchi ecco questo mazzo è perfetto anche a quello scopo tenendo naturalmente conto che si tratta della visione di un artista e non dell'iconografia più canonica anche se tutto quello che serve appunto a livello iconografico nelle carte c'è fatemi sapere se vi piace a me parla proprio lo stile di questo mazzo mi piace da morire appena l'ho visto io l'ho visto in questo libro di cui vi parlavo qui è uno dei mazzi che vengono raccolti con le enciclopedie mi aveva colpito tantissimo e ho aspettato un po' l'ho trovato giusto di recente su Amazon e me lo sono accaparrato perché doveva far parte della mia collezione vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram perché queste meraviglie in genere ve le faccio vedere anche in anteprima lì se vi piace il mazzo pensavo potremmo anche usarlo come base per degli approfondimenti sulle singole carte se vi può interessare però ci studiamo una formula perché non posso intasare il canale magari o su Instagram o vediamo in qualche modo fatemi sapere però se vi interesserebbe un ragionamento un po' più approfondito sulle carte io anche per oggi ho finito e noi ci vediamo al prossimo video ciao